Musica Oggi è l'ultimo giorno utile per partecipare al premio internazionale letterario 2033 Progetto Sud. La fortunata chermes dedicata agli epigrammi e dai pensieri presentata lo scorso novembre a Caserta. Sentiamo di cosa si tratta. Un'iniziativa che mira a valorizzare l'eccellenza del Mezzogiorno Italiano e del Mondo, portata avanti dal Presidente dell'Associazione 2033 Progetto Sud, Alfredo Sasso, e dal Presidente del Monsaurios, Leonardo Gaio, motivo d'orgoglio per Montelepre, sede della Segreteria del Premio. È possibile partecipare al concorso con un epigramma, un pensiero ispirato al Sud del futuro, tramite e-mail o posta. La cerimonia di premazione avverrà nei giorni 20, 21 e 22 maggio 2011, presso il prestigioso Palazzo delle Aquile, sede del Comune di Palermo. Per maggiori informazioni e per scaricare il bando collegarsi al sito www.2033progettosud.it o al profilo Facebook Premio Progetto Sud. Questo premio letterario internazionale che sicuramente inorgoglisce tutta la comunità, dei scrittori, dei poeti, ma anche del Comune di Montelepre. Infatti un progetto che nasce proprio qui a Montelepre, la Segreteria ha sede proprio qui. Abbiamo ricevuto in questo periodo di partecipazioni milioni di proposte, di partecipazioni al Premio Internazionale di Unite 33 Progetto Sud, relative a un argomento, un tema che l'Associazione del 2033 Progetto Sud di Caserta, con cui Presidente Alfredo Sasso, ha voluto lanciare, ovvero il Sud del futuro, la città del futuro. Come vedreste voi il Sud in una visuale migliore rispetto a quella che naturalmente è la situazione di oggi. Quindi un appello a tutti gli scrittori e i poeti che ci seguono per partecipare a questo premio letterario. Se volete scaricare il bando potete andare su www.2033progettosud.it oppure aggiungere il nostro profilo Premio 2033 Progetto Sud. Da chi saranno giudicate queste opere letterarie? Sicuramente grandissimi personaggi, un po' di vecchie conoscenze del Premio Monsaureus. Ci sarà Dante Maffia in presidenza della giuria, poi ci sarà Gabriele Amagiot, Giorgio Lingua Glossa e la dottoressa Donatella Misasi. Quindi uno staff in giuria sicuramente eccellente che rispecchia sicuramente la qualità del premio.